Un flusso a maggiore scorrimento per la stagione estiva ormai alle porte in vista dell'arrivo in città di frotte e di turisti diretti lì di balneari. Nell'altro di Palazzo di Città, Margherita di Savoia, è illustrato il nuovo piano sperimentale di viabilità cittadino. Obiettivo limitare la conflittualità verificatasi negli anni precedenti di traffico veicolare, dovuta essenzialmente al doppio senso di marcia presente su tutte le vie cittadine. Creare dunque sensi unici così da abbattere almeno il 50% del traffico e dove la careggiata lo consente a raddoppiare gli stalli di sosta. Questo quanto prevede il nuovo piano messo a punto dal colonnello Giuseppe Mandrone, comandante della Polizia Municipale di Margherita di Savoia, che ha trovato piena condivisione dell'amministrazione cittadina, la quale però prima della convalida del piano ha voluto incontrare associazioni di categorie amministratori cittadini per raccogliere eventuali osservazioni, dolianze e suggerimenti per migliorare il progetto. A volte si è creare sensi unici che non vandano a penalizzare gli esercizi pubblici laddove abbiamo previsto che ci sia non più lo stallo di sosta che penalizza l'utenza dell'esercizio pubblico ma tutti i dischi orari, in maniera tale che c'è fluidificata le macchine in sosta lì davanti agli esercizi pubblici. Dare la possibilità alle strutture recettive di avere stalli riservati alla propria utenza per le operazioni di arrivo e di partenza degli utenti e creare un senso rotatorio di marcia. E a monte di tutto questo, che è una novità per Margherita di Savoia, d'intesa con un tavolo tecnico che si è tenuto in prefettura sin dall'estate scorsa, quest'anno proveremo la nuova ordinanza sperimentale per deviare il traffico pesante. I mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate non potranno più entrare nel centro abitato di Margherita di Savoia e censo fatta per gli autorizzati o coloro i quali in deroga potranno attraversare ma su percorsi drasticamente indicati dall'apposita segnaletica stradale ma non certo sui corsi cittadini. Un piano sperimentale che avrà un inizio, un termine, un arco temporale in cui poter apportare migliorie o eventualmente confermarlo. L'ipotesi è di buttare giù la prova pratica operativa data da quest'estate, si ipotizza dal 15 giugno fino al 30 ottobre. Poi dopodiché andiamo a vedere se c'è da fare rettifiche, integrazioni o a confermare per intero il piano di viabilità. È una prerogativa dell'amministrazione che si riserve ad adottare all'esito della fase sperimentale.